salute salve spero che qualcuno si aggiunga presto eccoci qua salute salva a tutti benvenuti a storia d'italia allora vediamo se c'è qualcuno che si aggiunge vedo già otto persone perfetto è un piacere ciao bruno è un piacere essere qui è veramente spero che mi ascoltate che mi potete sentire che l'audio funzioni bene datemi un ok se funziona e sarò molto felice ho una ecco vedo anche alessio ciao ciao saluti e salve vedo non cliccate su questi questa gentaglia che manda i link vogliono solo fregarvi non vi cercate di ignorarli sono sono solamente dei buonasera mi potete dire se mi sentite dall'agro di forum vibi caburrum norman ciao norma damiano niccolò vedo tante persone che conosco continuate ad ignorare questi questi spammatori non capisco perché sono qui malibot spammoni che ci dobbiamo fare speriamo che gli passi speriamo che 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 gli passi la voglia allora benvenuti su una una diretta nuova diretta di storia d'italia non sono un naturale perché non è questo quello che faccio normalmente io di solito sono dietro a uno studio e posso pensare attentamente a che cosa fare eccetera ciao fabio ciao nicola e invece adesso improvvisiamo insomma che siamo in diretta improvvisiamo è il bello della diretta ho una bella notizia se vi va ho appena terminato l'episodio 68 che uscirà lunedì con cui iniziamo il secondo pezzo importante del sesto secolo diviso il sesto secolo nella mia mente in tre parti teodorico e l'inizio del del regno di di giustiniano fino alla guerra greco gotica la guerra greco gotica e il e il e le sue conseguenze e poi il periodo dei longobardi primo periodo dei longobardi la migrazione dei longobardi in italia se potete segnalarli si tutti questi spammoni per piacere toglieteli così cerchiamo di cerchiamo di togliere questi favolosi vediamo un po se riesco a farlo io no va bene cercate di farlo voi allora adesso che siamo già tantini vorrei farvi dopo la notizia della dell'episodio l'episodio 68 sarà il primo episodio vero del cuore della guerra greco gotica si potrebbe dire che già lo scorso lo è stato verterà sulla conquista di roma e sull'assedio di napoli che è un il primo epico assedio di molti della guerra greco gotica ne parleremo appunto da lunedì allora la diretta è gestita da voi potete farmi qualunque domanda volete di storia o anche non di storia su qualunque argomento e farò del mio meglio per rispondervi appunto considerando che con la diretta il diciamo a volte non ho l'accesso alle fonti che ho preparando gli episodi marco cipriani o tu parla noi pensiamo alla contraerea grazie grazie allora quindi chiedetemi quello che volete quindi io comincio nel frattempo mentre pensate a qualche domanda da chiedermi io vi dico un po di temi su cui possiamo parlare possiamo parlare di cose che non sono chiare degli episodi che ho coperto curiosità aggiuntive su argomenti vicini ai temi coperti possiamo parlare anche del futuro senza spoiler però potere possiamo parlare un po di qualunque cosa qui pensate alle domande nel frattempo io quindi vi dico qual è il mio piano il mio piano è come ho detto di continuare con un episodio ogni due settimane ciao giorgio e i prossimi episodi saranno molto densi perché 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 mi sto prendendo un po di avrete visto che sono tanti episodi diciamo per coprire pochi anni perché abbiamo la magnifica narrazione di procopio che è un lusso è un lusso che io non avrò nei prossimi secoli con questo dettaglio quindi ho pensato bene di sfruttarlo abbiamo una quantità di dettagli una quantità di narrazione tra la storia diciamo le le guerre e le storie segrete di procopio unito anche alle fonti italiane come cassio d'oro che ci permette veramente di ricostruire un quadro davvero completo questo è forse il secolo meglio narrato della storia romana perché per esempio il secondo secolo il secolo d'oro dell'impero romano non ha tantissime fonti l'intero regno di antonino pio praticamente non lo conosciamo e anche quelli di traiano marca aurelio abbiamo veramente pochissimi relativamente pochi dettagli invece sul sesto secolo grazie a procopio ma grazie a tanti altri veramente si può andare nel dettaglio anche conoscere le singole persone della corte di giustiniano la relazione tra di loro cosa è successo perché è veramente affascinante da questo punto di vista di tutti i secoli della storia romana è il più dettagliato dopo il secolo delle guerre civili il secolo il primo secolo avanti cristo grazie alessandro eccoci ci siamo visti ieri allora fantastoria prima domanda pesante vediamo un po ma l'assunto e todato cedono l'italia giustiniano senza combattere come evolve la storia da qui è un gioco ma divertiamoci un po tutto ciao marco grazie per essere un patron beh la storia allora non è che ci sarebbe stato secondo me una transizione di potere come dire incruenta perché comunque anche se ama l'assunto e todato avessero ceduto il regno questo non sarebbe andato bene a vitigie o a tutto il resto della fazione uraias totila insomma tutta la fazione nazionalista gota quindi ci sarebbe stato una resistenza però una resistenza meno organizzata post perché a quel a questo punto una volta trasferito legalmente il potere per la popolazione romana sarebbe stato veramente difficile fare fare le parti di goti illegalmente ribelli contro il governo legittimo e anche una parte di goti la fazione più vicina da mal assunto e todato probabilmente non avrebbero fatto problemi come vedremo nel seguito della storia ci sono vari passaggi in cui questo poteva avvenire quindi io penso che la guerra ci sarebbe stata comunque ma probabilmente sarebbe stata di durata minore probabilmente giustiniano e belisario avrebbero conquistato il regno più facilmente questo probabilmente perché ovviamente non lo possiamo sapere ma questo fa parte del gioco della fantastoria no grazie mille federico per il buon anniversario federico oggi mi ha mandato bel po di materiale che poi vedremo secondo me nelle prossime settimane perché federico di ossimo spoiler alert ossimo è un una località importante della guerra greco gotica e succedono diversi c'è un assedio molto interessante mi ha mandato delle chicche non vedo l'ora di farvele vedere e di parlarvele fra qualche fra qualche tempo in attesa del a ecco un'altra domanda domanda sul fronte l'identiale esistono fonti storiografiche dalla parte sassanide persiana si e no tramite tramite arabi ma molto tardi molto tardi che ricostruiscono il passato però l'equivalente di quello che potrebbe essere per noi una fonte bizantina a quello che so non sono un grandissimo esperto di questo argomento però tendenzialmente sono molto poche il passaggio dell'intero per l'impero persiano è stato conquistato dagli arabi e questo ha creato una forte discontinuità in quello che è sopravvissuto delle fonti quindi non c'è così tanto non c'è così tanta ci sono tante fonti comici sono per l'impero romano c'è una fonte stupenda che non è relativa a questo periodo però la vorrei citare ed è la famosa res geste divi sapori è il titolo gli è stato dato in latino ma per per una similitudine perché voi sapete che augusto ha scritto le res geste divi augusti famosissime e e chapur chapur primo non chapur secondo che conosciamo dal podcast ha fatto scrivere presso la sua tomba una sorta di res geste con tutto quello che era riuscito a fare insie sconfiggendo i romani ci sono diversi dettagli che sono solo nelle res geste che parlano della crisi del terzo secolo e che sono disponibili solo da fonte persiane cosa che mi fa pensare a quanti altri dettagli noi non conosciamo perché non abbiamo il contrattare di cosro praticamente cosro sappiamo quasi tutto da fonte romana ciao alexandre da porto allegre dal brasile grazie per seguirmi nicola di se mi chiede buonasera popolo barbaro preferito e perché che domanda beh oramai sono molto affezionato ai goti e ostrogoti e visigoti insomma avendone seguito le vicende so che la risposta forse banale però avendone seguite le vicende veramente nel dettaglio ora sono quasi arrivata alla fine della storia degli ostrogoti la storia dei visigoti è un po dura un po più a lungo ma un po più particolare secondo me finisce quando si convertono a cristi al cattolicesimo e poi si fondono veramente una popolazione locale qui sto arrivando verso la fine della loro storia ed è una storia che a me personalmente appassionato e ritengo inoltre che gli ostrogoti è importante sono importanti perché gli ostrogoti siamo noi i goti in generale perché ovviamente gli ostrogoti una volta sconfitti non è che sono scomparsi nel nulla si sono fusi con la popolazione una volta eliminata la barriera legale tra romani e diciamo barriera più che legale non c'è nessuna barriera legale ma la barriera dettata dall'esistenza dello stato dei goti e dei romani finiranno per forse fondersi molto velocemente con la popolazione locale quindi noi italiani una percentuale di noi italiani è gotica quindi siamo noi allora vediamo un po le storie segrete di procopio quanto sono affidabili giustiniano che cammina di notte senza testa non stiamo no ma certo quello è avvenuto perché come ti permetti di dubitare che giustiniano non è ovvio che allora la cosa interessante di procopio è che lui scrive in un formato quindi il formato che ha scelto per le storie segrete è un formato polemico e quindi segue quel quello stile lì però è molto attento a dire io ho sentito dire ogni volta che parla di qualcosa che può non essere vera lui dice io ho sentito dire che che giustiniano andava in giro senza testa quindi fa parte del 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 gioco delle parti ci sono dei dettagli delle storie segrete che sono verosimili perché verificabili da altra fonte come nel caso di cassiodoro in cui abbiamo alcuni dettagli e indizi come come ho spiegato nell'ultimo episodio in cui anche non combaciando del tutto capiamo che ci sono dei dettagli che possono combaciare come la storia di di teodora che potrebbe avere effettivamente richiesto l'assassinio di amalassunta ci sono dei dettagli nelle lettere di cassiodoro che sembrerebbero confermarlo quindi è un lavoro complesso gestire le storie segrete non vanno prese letteralmente la storia di teodora con la colloca che becca i chicchi non so è una scena forte magari non la dico tutta però potete andare a controllare se non la sapete molto molto hard insomma si potrebbe essere sì potrebbe essere probabilmente un'esagerazione allora res spero ditemi se vi rispondo se avete ancora di dubbi eccetera non vi ho risposto eh aggiungete io e io elaboro ancora grazie luca alessandro con il res gesto della bancheca facebook dell'antichità è vero sì allora maurizio 5 ciao dopo una guerra così lunga e devastante perché l'impero ha permesso che i di entrassero in italia senza oppure resistenza spoiler alert non è che l'impero ha permesso non aveva le forze per bloccarla semplicemente un'italia completamente devastata non ha le risorse per sostenere un parato difensivo forte come era quello dei del regno d'italia dico solo un dettaglio poi ne parleremo molto più a lungo nel negli ultimi episodi del sul sesto secolo ma aveva subappaltato l'impero l'impero romano d'oriente va subappaltato la difesa sul lato più sensibile delle alpi cioè le alpi orientali dove ci sono i passi passi più semplici per entrare in italia agli eruli come federati e una parte del delle venezie la parte più montana era addirittura stata ceduta ai franchi questo non lo trovate in quasi nessuna mappa del periodo quindi era un sistema veramente debole ma perché non c'erano le risorse loro tenevano più o meno la linea del po che poi hanno tenuto era la linea che veramente sotto lo po avevano gli interessi eccetera e la tenevano abbastanza bene sopra il po era era subappaltato a federati e anche a ex soldati goti sconfitti che mantenevano delle guarnigioni soldati goti che è possibile non provato che siano passati dalla parte dei longobardi siano diventati longobardi insieme con l'invasione dei longobardi un dettaglio interessante che i longobardi sembrerebbe che si siano convertiti all'arianissimo poco prima di entrare in italia come una perché erano ortodossi prima come una ortodossi e pagani misto non erano monolitici però la dirigenza si convertì all'arianissimo probabilmente come propaganda ai goti più nazionalisti sconfitti e ancora ariani per dirgli venite con noi insomma quindi non è stato l'impero bizantino a concederlo è stato l'impero era assolutamente una condizione di non poter difendere l'italia però ne parleremo molto più a lungo molto più nel dettaglio nei prossimi episodi poi grazie ettore jonathan ciao jonathan mi chiede e se non ci fosse mai stata la peste giustiniano cosa sarebbe cambiato sarebbe cambiato tantissimo perché la peste di giustiniano non è solo un evento puntuale che colpisce nel 541 e poi vai via la peste di giustiniano dura 200 anni e colpisce a cicli regolari di circa 20 anni il mediterraneo in continuazione perché le nuove generazioni non hanno l'immunità alla peste quindi quando ritorna colpisce soprattutto i giovani bambini questo unito a un clima straordinariamente freddo si chiama la piccola delito l'ice age of the late empire la piccola era glaciale della tarda antichità che dura dal 536 al 660 circa come vedremo per probabilmente causata da da due erozioni vulcaniche molto potenti quindi la l'associazione tra questi due eventi e non è casuale che siano probabilmente che siano in contemporanea è un è un vero peso sull'intero mondo mediterraneo causa un enorme discontinuità è la vera discontinuità tra l'antichità e il è il periodo più buio del medioevo che medioevo è un periodo lunghissimo di mille anni anche di periodi di grandissima crescita uno dei periodi di maggior crescita della storia mondiale e dall'undicesimo al tredicesimo secolo ma sicuramente il la seconda per metà del sesto secolo e il settimo secolo sono il nadir della 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 civiltà mediterranea diciamo dai tempi della 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 crisi dell'età della alla fine dell'età diciamo nell'età del bronzo una crisi che è stato nel 1200 avanti cristo federico mi chiede qual è il secolo che non vedi l'ora di narrare beh allora devo dire questo sesto secolo ci tenevo particolarmente perché succede veramente tante 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 cose quindi è uno dei dei miei secoli preferiti il secolo che che vorrei narrare allora ci tengo all'ottavo secolo anche perché è la nascita della 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 civiltà occidentale la separazione con con veramente tra impero romano e civiltà occidentale e nasce qualcosa di nuovo quindi oggi stiamo in questo periodo noi stiamo smontando in tanti piccoli pezzi il mondo antico e l'ottavo secolo e quando questi pezzi cominciano a rimettersi insieme quindi questo è un passaggio a cui a cui ci tengo adoro anche l'undicesimo secolo e la nascita della della grande europa medievale sarà veramente una una storia appassionante anche per l'italia con i comuni le repubbliche marinare la boom dei commerci dell'economia dell'universo le università è è un periodo a cui tengo e se posso aggiungere un altro che invece salta ancora un po' più avanti il diciassettesimo secolo che a cui sono molto affezionato e penso sia poco conosciuto ci vorrà un po di tempo però è un secolo per me è fondamentale e è che è molto importante la storia europea del diciassette secolo è un po triste quella italiana ma quando ci arriveremo conto di raccontare non solo quella italiana ma anche quella del 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 resto dell'europa italo muraro ma la freccia che ci si girano era cristiana no no non credo non credo non credo fosse voluto i romani non non credo al tradimento credo a l'errore di sbaglio a ettore la domanda domanda classica quante quante puntate farai quante ne servono cioè tante a me io sono un grande fan del 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 signore degli anelli la strada va sempre avanti non è una delle poesie del del signore degli anelli bisogna è pericoloso mettersi sulla strada perché non sai dove ti porterà e questo è la mia filosofia mi sono messo sulla strada adesso tocca seguirla fino alla montagna solitaria grazie danilo per l'anniversario mancano alle 22 49 ho caricato il podcast quindi banca non manca tantissimo il quanti erano i goti all'inizio della guerra gotica è difficile da dirsi se dovessi fare una stima penso che i goti che sono entrati in italia erano circa tra i 100 e 200 mila probabilmente sarà il numero sarà cresciuto nel nel durante durante i decenni di teodorico ma non così tanto perché la popolazione non cresceva così tanto velocemente nell'antichità quindi siamo in quell'intorno ovunque relativamente pochi e questo parlo di dell'intero popolo non non della delle forze militari esercito stimabile in 40 mila uomini incluso anche qualche romano non erano solo goti nicola marinco scriverà mai un libro chissà gonzalves ciao di sao paolo brasile non sei l'unico devo dire brasiliani veramente siete tra i miei ascoltatori diciamo più più accadenti a giusto dovevo dire le brand podcast ho scritto ho scritto un capitolo di un libro fatemelo prendere va che vuole il caso che esce oggi quindi questo parla di podcast ci sono gli interventi di di veramente di una bella compagnia perché ci sono tra i migliori podcaster italiani tranne il sottoscritto che è un intruso insomma e parla di come realizzare un podcast e la mia parte io essendo un marchettaro di professione mi hanno chiesto di unire il mio dottor jekyll e mr hyde in uno e parlare di marketing per il podcast quindi se vi interessa questo argomento trovate tutti i miei consigli sul sul libro e troverete anche tantissimi altri consigli di di brevissimi podcaster come come il duo di bistori che parla di come realizzare una una storia come scriverla anche rossela pivanti francesco tassi è un bel libro ok paola micangelo quindi si fatta questa mostruosa cultura storica no non allora questo vorrei dire una cosa non è ovviamente la storia era una passione quindi partivo con una conoscenza di base però la stragrande maggioranza del del lavoro è in contemporanea con il podcast io non so i dettagli per esempio adesso ho leggi giucchiato abbastanza fino a fino a tutto il secolo successivo a carlo magno però oltre non so i dettagli della storia e quello che faccio è la prendo per realizzare i podcast quindi però faccio una ricerca molto attenta delle fonti cercando sia i libri più autorevoli soprattutto recenti cercando di mescolare archeologi archeologi con storici e andando a prendere anche paper online specifici su singoli argomenti e e tutto questo poi si tendenzialmente lo leggo una prima volta poi lo rileggo una seconda volta e a quel punto comincio a creare tutte le connessioni tra le varie versioni e di solito crea anche una versione marco cappelli insomma che quella che vi una di quelle che vi 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 comunico alessandro delle vedove mi ha fatto innamorare follemente dell'impero romano d'oriente soprattutto la transizione verso il cosiddetto impero bizantino e ci guarda questa cosa mi rende veramente felice perché ahimè l'impero romano d'oriente non è uno degli argomenti più popolari e forse una scelta come dire attenta alle mode sarebbe potuta essere di di tralasciare un po quella storia e parlare solamente dell'italia però io che sono appassionato di impero bizantino lo ero già prima di iniziare il podcast ho pensato questa è una storia che secondo me ci sono così tanti dettagli sono così tante cose interessanti per capire anche la transizione come come nasce questo impero romano medievale che secondo me vale la pena portarla anche è secondo me molto rilevante per la storia d'italia perché l'impero sarà una delle due parti fondamentali dell'italia fino all'ottavo secolo e dopo continuerà ad avere una presenza in italia fino all'undicesimo quindi è assolutamente indispensabile capire l'evoluzione dell'impero tra virgolette bizantino per capire la storia d'italia perché è una parte enorme della storia d'italia però ci tenevo anche perché secondo me è una cosa importante che non è conosciuta perché c'è stata questa rimozione dei bizantini dei romani d'oriente come greci come una come ortodossi una civiltà diversa e sono stati accantonati e vorrei anche nel nel futuro di questa storia continuare a tenere al centro l'impero romano d'oriente perché è al centro la storia d'italia quindi non è che mi devo inventare nulla lo sarà fino alla fine l'italia è legata a doppio filo con costantinopoli fino al 1453 quindi non avremo modo di seguirlo magari non a volte non nello stesso dettaglio come adesso ma conto di continuare a parlarvi degli imperatori romani fino alla fine meglio il regno goto quello successivo longobardo sono diversi il regno il regno regno d'italia il regno dei goti e degli italiani quindi non solo goto a mio avviso è a un livello inevitabilmente superiore perché era in una fase anche culturalmente più forte avendo a disposizione un un'economia florida un mondo mediterraneo interconnesso un'italia unita forte con uno stato romano ancora integro e ereditato integro dal 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 regno dei goti e degli italiani il regno longobardo non solo non tanto per colpa dei longobardi è lo stato romano è come dire voi prendete un un vaso intero ve lo consegnano e voi lo dovete mantenere poi magari le piante ci sono dentro le curate bene e fioriscono questo è il regno goto un altro conto è se vi danno un dei cocci con la te con il terriccio sparso e la pianta è morta non sono non sono uguali le condizioni di partenza detto questo i longobardi piano piano rimetteranno assieme un vaso con lo scotch e sarà lo stato italiano che metteranno in piedi longobardi è lo stesso stato che erediteranno i carolingi è quello stato che durerà fino all'undicesimo secolo quindi è uno stato estremamente rilevante per la storia d'italia lo stato dei longobardi questo concetto particolare perché lui dice ma il regno dei longobardi è caduto nell'ottavo secolo ma lo stato è sopravvissuto ne parleremo alfredo una altra domanda fantastorica una completa assimilazione tra romani e goti forse avrebbe permesso regno strogoto di perdurare diventare un alternativo sacro romano impero con nuovamente roma e la penisola italiana è verosimile tale scenario e in tal caso come immagini d'italia moderna ci sono troppa acqua sotto i ponti il regno strogoto è è l'altro possibile regno intorno al quale costruire l'europa oltre a quello dei franchi e il regno dei franchi ha una serie di vantaggi ma anche di svantaggi gli svantaggi per esempio essere uno stato che si scompone ad ogni generazione in vari regni che poi si ricompongono poi si riscompongono ha un vantaggio di essere molto aggressivo di avere una nobiltà guerriera molto aggressiva perché perché deve razziare il regno il re deve razziare altri regni per distribuire ai suoi nobili delle ricchezze per tenerli fedeli alla corona quindi è uno stato molto aggressivo il regno d'italia ha una struttura statale è molto più forte però per diventare un regno veramente forte si sarebbe dovuta fondere la componente gota e romana e creare una nuova nazione come successo ai visigoti in spagna che però poverini erano molto più deboli dei dei degli ostrogoti d'italia è difficile da dire quale tra franchi e ostrogoti avrebbe sarebbe alla lunga riuscito come il il la potenza numero uno molti metterebbero la scommessa comunque sui franchi non è impossibile io penso che questo anche perché la crisi dinastica di todorico dimostra una una piccola una debolezza lì la legame con solo con questa famiglia piuttosto ristretta degli amati vero è che il regno dei franchi anche legato a una a una casa regnanti meno vinci quindi è difficile da dire dire quale dei due sarebbe diventato la potenza dominante un po troppo oltre io penso che avrebbe avuto una possibilità di essere il la potenza dominante dell'occidente l'italia era stata la potenza dominante dell'occidente per per 700 anni 800 anni la gallia era chiaramente il numero due nell'impero romano d'occidente non è un caso che si sviluppa un regno forte in gallia tra questi due sarebbero giocata o valerio barba e annuncia mai avuto momenti di stanca dello scrivere puntato giorni in cui ti sei chiesto chi me lo fa fare qualche volta stanca no mi piace anzi avrei fretta di andare oltre di raccontarvi tutte queste altre cose che succederanno però mi sono dato delle regole e voglio mantenere le regole e voglio anche donare l'attenzione a ogni periodo perché ogni periodo è degno di attenzione quindi non solo quelli famosi celebri eccetera ma ma tutti i periodi non devo dire che finora mi sto divertendo tantissimo quindi penso che se vi piace quello che faccio le probabilità che continui ancora a lungo sono alte francesco come è stato possibile che un numero talmente limitato di barbari abbia potuto conquistare controllare una popolazione talmente più grande allora questa è una domanda diciamo che in varie parti del podcast è un po difficile da rispondere in generale bisogna non bisogna comparare la popolazione con la popolazione ma bisogna comparare l'esercito con esercito l'esercito d'italia nel quinto secolo era di circa 40 mila uomini l'esercito degli ostrogoti era di 40 mila uomini quindi sono uguali la differenza è nella struttura della società nella struttura io non ogni uomo è un ogni maschio in età da combattimento è un potenziale guerriero e spesso è un guerriero delle classi medio alte nella popolazione italiana avendo una struttura della popolazione italiana popolazione romana in generale avendo uno stato tra virgolette più avanzato più specializzato con una serie di ruoli l'amministrazione l'agricoltura più intensiva i nobili i dottori i maestri la flotta c'è più specializzazione quindi c'è meno ci sono meno persone potenzialmente guerriere e in più essendo uno stato con un esercito professionale lo deve pagare come lo paga lo paga attraverso il sistema della tassazione che è un sistema complicatissimo mantenere una tassazione regolare è una cosa che le società antiche sono poche quelle che ci sono riuscite società antiche medievali e quelle che ci riescono a devono mettere su una struttura mastodontica per gestire tutto questo che è una struttura sottratta al potenziale militare questo potenziale militare d'altronde è professionale e specializzato questo permette anche a non tutti insomma in nostra società germanica tutti devono essere guerrieri anche chi magari come me è un po nerd bisogna essere guerrieri comunque perché tutti sono guerrieri quindi è nella natura della differenza del tipo di società dobbiamo paragonare esercito con esercito esercito come esercito ostrogoti all'esercito d'italia a difesa d'italia erano più o meno dimensioni simili dimmi francesco se ti ho risposto a vincenzo grazie per avermi fatti conoscere il professor barbero guarda sarai uno dei pochissimi vincenzo che a cui io ho fatto conoscere barbero sono veramente felice e beh lui è straordinario barbero è il ci sono tanti probabilmente sono tanti storici italiani molto bravi ci sono tanti divulgatori molto bravi barbero è un unicum in quanto è allo stesso tempo un ottimo storico un ottimo è uno straordinario divulgatore quindi quindi lo consiglio a tutti a matteo maragno un giorno mi pare ci parlai del mitico costante secondo l'ultimo imperatore romano a visitare roma ma certo come non come non perché no come ho detto parleremo di tutti a lungo dell'impero e quell'imperatore lì che mi viene a roma va si muore a siracusa vuole trasferire la capitale a siracusa voi che non ne parliamo certo che ne parleremo abbiamo salato in quale secolo avrai più problemi a trovare fonti storiche per fare puntate sta arrivando periodo del settimo settimo ottavo secolo raggiungiamo il rock bottom perché ci avrete poco sull'italia sostanzialmente paolo diacoro che scrive tra l'altro nell'ottavo secolo parlando del settimo e quindi è un po lontano dagli avvenimenti non è un contemporaneo come procopio anche se se deve aver utilizzato del una fonte contemporanea forse del una parte del trentino monaco trentino ma 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 quello è il periodo dove ci sono meno meno fonti sono anche meno fonti dell'impero bizantino ce ne sono pochissime di in quel periodo quasi nulla perché è un periodo durissimo e ci sono poche anche arabe perché gli arabi gli arabi non ancora non sono diventati abbastanza civilizzati da avere una grande letteratura i bizantini invece discende la produzione si almeno quello che è rimasto è poco nulla abbiamo di nuovo autori bizantini dell'ottavo del nono secolo ma non del settimo quindi diciamo il settimo secolo e probabilmente il secolo più duro come fonti nonostante questo abbiamo un bel po di dettagli ed è una storia molto interessante non ci sono solo le fonti scritte su eraclio la storia di eraclio dell'arrivo degli arabi e dei longobardi comunque abbiamo abbastanza dettagli per poterla raccontare ma per quello sto dando anche un po più di spazio a questo periodo perché perché abbiamo veramente molto 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 più materiale su cui parlare marco rossi è una domanda questa è un classico però ti rispondo lo stesso non lo potevi sapere come farai a narrare la storia italiana man mano che la penisola si frantumerà politicamente allora la cosa interessante è che noi diamo per scontato che la penisola si frammenti abbastanza presto ma non è questo il caso la penisola si frammenta veramente lo stato italiano scompare lo stato quello dei longobardi scompare solo nell'undicesimo secolo se vuoi una data 1025 cosa succede 1025 i paevesi bruciano il palazzo reale di pavia andate a vedere è una storia interessante però fino a quella data esiste uno stato italiano ed esiste una storia di quello stato e ovviamente esistono anche altre potenze in italia il papato e l'impero romano ma ci sono i ducati longobardi qualcosina ma questa è la fine della storia non sono tantissimi tantissime entità statali ovviamente nello stato è complesso ci sono sempre dei molti attori in uno stato quindi non è così frammentare la storia fino all'undicesimo secolo diventa frammentare dall'undicesimo secolo in poi ma anche lì ci sono dei dei tratti unitari perché abbiamo le leghe comunali abbiamo abbiamo le storie delle repubbliche marinarie abbiamo il papato che è diventa con la riforma la riforma popale diventa molto importante lo stato normanno secondo me ci saranno ci sarà modo di tenere una linea narrativa dell'intera storia italiana allo stesso tempo dedicando degli episodi speciali a passaggi chiave di una singola città come venezia come firenze che ne pensi di un secondo contenuto speciale con fabrizio mele il suo podcast magari sono un governo d'italia ma molto volentieri molto volentieri è una bella idea e ed è un argomento che piace al professor barbero quindi chissà vediamo se se troviamo il modo di farlo quello che posso anticipare è che ci saranno altri contenuti speciali che ho già che ho già in piano posso svelarveli perché sono abbastanza come dire insomma abbastanza sicuri uno dedicato una puntata dedicata alla filosofia tardo antica conto di farla poi ve lo dirò quando non uscirà immediatamente però uscirà e con con matteo saudino del di barba sofia oggi abbiamo già registrato devo 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 pubblicarla la pubblicherò e penso che vi piacerà tanto perché è una è veramente stata una collaborazione molto divertente insomma di parlare di di neoplatonici di boezio di agostino e poi siamo siamo andati fino alla scolastica credo che potrebbe piacervi l'altra cosa qui sto lavorando è una puntata speciale con un luminare del diritto per parlare di corpus iuris civilis che penso di nuovo sia un argomento molto interessante è che io ho trattato leggermente negli episodi proprio perché pensavo si merita una puntata dedicata quindi questi due argomenti avranno due puntate dedicate sono un crossover e un palomieli magari ci proviamo ci proviamo che ne pensi del libro di francesco volpe di lutvac la grande strategia dell'impero romano allora non ho ancora letto la grande strategia dell'impero bizantino ma conto di farlo e francesco ti farà piacere sapere che ho appena riletto quasi tutto il libro della grande strategia dell'impero romano è allora lutvac è un personaggio non so se voi avete avuto l'opportunità di vederlo in televisione un giorno sì un giorno no come ho avuto io è un personaggio particolare io ammiro tantissimo quel libro nonostante che su alcuni argomenti una serie di argomenti è superato perché negli anni settanta la ricerca è data avanti però lui comunque è arrivato e ha lanciato una bomba nella storiografia con un punto di vista questo mi piace a volte il punto di vista esterno lui non è uno storico è un politologo conservatore americano e lui vedendola da un punto di vista di stratega militare politologo è riuscito a tirar fuori alcune cose molti concetti a cui mettere insieme dei concetti a cui archeologi e storici non erano arrivati perché non era il loro mestiere di pensare alle strategie militari e quindi questo è un libro che comunque consiglio ripeto anche se ci sono delle parti che sono superate è comunque consigliabile per capire la crisi del terzo secolo in particolare capire il concetto di difesa flessibile e di difesa lineare classica romana di difesa tramite i clienti e poi la difesa in profondità adottata da diocleziano e costantino e secondo me quella parte lì è assolutamente valida ancora oggi e quindi dovrò leggermi la strategia dell'impero bizantino è uno dei prossimi libri nella lista si bruno sono d'accordo 17 secolo è veramente una rivoluzione e spero veramente non dico spero di arrivarci ci arriverò quando ci arriverò spero di di fare un buon lavoro anche salvador cioè abbiamo tutte le città dal brasile porta allegre san paolo salvador veramente ciao andrei fra l'altro grazie di tutto norman ciao norman sei riuscito a trovare una compagna che condivide la tua passione per la storia o come il 90% dei passionati più che sopportarlo la sopporto no devo dire che a Helen piace la storia non è non è non è folle di storia come me ma le piace le piace visitare i musei le piace visitare le aree archeologiche e stiamo cercando anche di trasmettere questa passione alle bambine e quindi questo questo e lei senza di lei il podcast non sarebbe possibile è lei che rende che lo rende possibile con tutta la pazienza che ci mette nel sopportare tutto il tempo che io dedico anche la mia concentrazione su questa cosa oggi abbiamo fatto una piccola pausa per prendere un caffè insieme e gli ho raccontato la storia di una puntata speciale che vorrei realizzare di cui non dico niente perché non so ancora certo che la farò ma se la farò poi ve lo dirò è una cosa molto particolare ero lì e lei mi ha ascoltato e mi ha anche dato mi ha detto che era una bella idea e le è piaciuta e poi mi ha detto anche però cerca anche di staccare ogni tanto la testa su questa cosa bella domanda norman comunque grazie amore grazie vedrai questo video grazie alla placidia dovrei dire e teodora perché lei è se non l'avete lo sapete ciao martin come stai martin noi ci siamo visti a ravenna mirko e vieni però dietro birko buon anniversario attenzione 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 suona questo vuol dire che in questo momento storia d'italia compie due anni è proprio nel 22 e 49 del 2018 quindi per festeggiare chiedo scusa siamo in belgio ho una birra belga me lo perdonerete immagino quindi io apro la birra belga e festeggio i due anni ok un pochino di ecco qua ecco qua ce l'abbiamo fatta due anni incredibile non l'avrei mai detto un mi è venuta con un po di schiuba però c'è scritto shimè ma non è shimè comunque se assolutamente va provata questo renderà il proseguo della diretta molto più facile allora vediamo le altre domande buon anniversario una domanda soprattutto documenti di natura imperiale ufficiale originali fine nostri giorni sì 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 e ti dico mirko ci sono tantissimi documenti che vengono dall'egitto perché il papiro è un ottimo materiale e il clima dell'egitto è straordinario per la conservazione dei papiri quindi c'è una documentazione papirologica enorme di papiri antichi molti vengono scoperti in continuazione per esempio dico un dettaglio Decio questo è prima del podcast però sto studiando per episodi futuri speciali ha iniziato la persecuzione aveva chiesto a tutti le persone di recarsi a fare un sacrificio per dimostrare di essere di seguire la religione tradizionale romana è più complicato di così ma fidatemi per adesso e ci sono arrivati una serie di certificati di persone che di fronte a un ufficiale romano fanno il sacrificio e l'ufficiale romano firma dicendo quest'uomo ha effettivamente fatto sono arrivati una cinquantina quindi vuol dire che veramente era molto diffuso e lo stesso per esempio io l'ho citato nella pagina ma c'è sono mai anche un podcast ma c'è un documento di pugno firmato da Odoacre che per esempio è su una donazione in Sicilia che è arrivato fino ai nostri giorni non ci sono altri non ci sono documenti firmati da un imperatore quello no però ci sono tanti documenti burocratici imperiali se dovessi indicare il singolo miglior libro di storia che tu abbia mai letto beh per me io sono affezionato adesso a Justinian's Flea che hai messo in inglese se volete veramente capire il sesto secolo perché non parla solo della peste di Justiniano tra l'altro descritta come lo fanno noi storici spesso anglosassoni cioè con tutta la biologia della malattia non parlando solo da un punto di vista di storico delle fonti ma andando anche a vedere alla scienza che io è una cosa che apprezzo moltissimo quando un libro mescola scienza, archeologia e storia in uno solo quindi questo è un ottimo libro anche il mitico Peter Heater La caduta dell'impero romano è stata la mia è stata la mia musa linea guida per i primi capitoli quando è ancora muovo i primi passi e mi ha seguito per tanto tempo penso sia un libro straordinario sulla storia del tardo impero aggiungo però di libri di storia non tanto di storia ma un libro bellissimo anche in italiano si chiama Acciaio Germi no non mi ricordo come si chiama Guns, Germs and Steel in inglese Guns, Germs and Steel di Jared Diamond che è un antropologo di nuovo mi piace di punti di vista esterni alla storia quindi un antropologo che parla di storia Lutwak uno storico militare e parla di storia insomma mi piace questi punti di vista esterni Ah bella domanda Enrico quale significato ha lo scudo araldico che incorriccine le storie d'Italia del podcast no lo scudo in realtà l'origine dello scudo è semplicemente la bandiera allora voi avrete notato che storia d'Italia non c'è la bandiera italiana non c'è il tricolore non c'è il tricolore volutamente perché il tricolore rappresenta gli ultimi 200 anni di storia italiana perché anche dai tempi di Napoleone in poi volevo quindi avere una bandiera che rappresentasse un po' più di storia italiana e secondo me non so il termine tecnico perché non so la visologia non è la mia passione ma lo scudo araldico al centro della bandiera marina con le quattro bandiere delle repubbliche marinare mi è sempre piaciuto tanto perché rappresenta la divisione quattro ma l'unità all'interno di un gagliardetto cioè il mantenimento di un concetto unitario d'Italia pur nella divisione e rappresenta anche il medioevo e tutta la parte di storia in cui l'Italia è divisa anche successiva certo non ci sono tutte le città italiane non c'è Firenze non c'è Milano non c'è Roma non c'è Napoli però secondo me è un bel modo di rappresentare quello che doveva essere il mio podcast la storia dell'Italia dopo l'impero romano spero di averti risposto Gorenzo Lori in quale periodo il destino dell'Europa occidentale smette di legarsi al vecchio impero romano e trova nella stia franca la nuova guida politica ciò perché avviene? debolezza militare, lingua, religione l'impero romano d'Oriente lo vedremo bene nel dettaglio l'impero romano d'Oriente subisce nel VII e nell'VIII secolo la Jihad ogni anno costante da un nemico molto più grande molto più potente che è il Califato e questo ne distrugge completamente la natura imperiale lo Stato sopravvive ma è una lotta per la sopravvivenza disperata quello dell'impero romano d'Oriente e non è come i franchi Capotier sconfiggono una piccola parte della potenza araba lì è l'equivalente di Gondor se volete pensare immaginate l'impero romano l'impero bizantino ora non sto dicendo che gli arabi sono Sauron non ci sono buoni e cattivi nella storia però dovete immaginare la proporzione così Sauron contro Gondor se capite se si è appassionati di fantasy sapete di cosa parlo quindi in quella condizione l'impero non riesce più a difendere il papato dai Longobardi il papato si deve trovare un nuovo padrone e un nuovo protettore che saranno i franchi e che erano l'unico altro protettore possibile e dallo spostamento del papato dall'impero romano al regno dei franchi abbiamo la nascita della civiltà occidentale semplificando oh poi oh sono sono scomparsi tanti commenti sbaglio va bene comunque leggo quelli che ci sono Maurizio 5 perché non avevano così tanti uomini da difendere l'Italia con queste veloci manogoranti l'impero sassanale di nuovo in guerra in più l'Italia è così malconcia non ero in grado di mantenersi da sola questa penso sia una risposta non lo so se volevi farmi una domanda rio però vediamo Pasquale mi chiede il quinto secolo viene scritto come se la fine dell'impero fosse inevitabile io non sono così d'accordo spero che sia venuto fuori nel podcast se non è venuto fuori mi spiace perché a mio avviso l'impero non era destinato inevitabilmente alla caduta come è evidente dalla storia del VI secolo in cui l'impero romano si riprende e riconquista nuovi territori poi noi possiamo non essere contenti di comandare la cosa ma questo è indiscutibile la decadenza dell'impero romano occidente è dovuta da fattori contingenti che potevano essere anche invertiti io non ci vedo un'inevitabile caduta e penso anche sono uno dei più ottimisti io penso che non fosse inevitabile la caduta fino abbastanza tardi posto che l'impero romano occidente sia veramente caduto perché secondo me l'impero romano occidente sta cadendo adesso nella storia d'Italia lo so che è un concetto un po' particolare ma l'ho spiegato bene nel podcast insomma che cosa intendo Marco Rossi c'è una qualche puntata che oggi faresti in modo diverso? sì Costantino vorrei un giorno magari se avessi tempo vorrei rifarlo ci sono delle cose cose che mancano lì e che avrei dovuto mettere però ero anche all'inizio e chissà magari ci tornerò ci tornerò in qualche modo ci tornerò Pasquale come mai non si riusciva in nessun modo ad arruolare i truppi tali che si riusciva ma ripeto il concetto di base è sempre quello quello stato 40.000 soldati si può permettere tu puoi scegliere o di prenderti 40.000 contadini che sanno tirare una zappa oppure ti puoi prendere 40.000 veri soldati quali scegli? tendenzialmente scegli veri soldati è meglio avere veri soldati perché il contadino magari tarchiato la zappa eccetera ci vuole molti più soldi molto più tempo per ottenere forse non è detto lo stesso risultato e in più quei contadini li vai a togliere al ciclo produttivo se tu vai a prendere un germano d'oltre frontiera o anche un germano che vive in Italia o che vive all'interno del mondo mediterraneo e lui è già formato è già uno che sa menare le mani ma se tu prendi un contadinozzo come fai? l'altra cosa è questo il ciclo economico tutto quei 40.000 si reggono sul sistema della tassazione la tassazione deriva dalla produttività della terra la produttività della terra deriva da quanti contadini ci sono per coltivare quella terra andare a prendere che non sono solo 40.000 ma sono perché muoio gente muore di malattie soprattutto in continuazione quindi c'è un alto turnover quindi devi continuare a sottrare persone alla parte produttiva andando a ridurre il tuo introito delle tasse mentre prendendo un germano prendi uno già formato che ti costa solo la paga e non vai a sottrarre risorse allo stato quindi è un sistema che è preferibile dal punto di vista del governante e fra l'altro ha funzionato benissimo intendenzialmente perché i germani che combattevano nell'esercito romano sono sempre stati molto fedeli e hanno sempre combattuto fedelmente per l'impero e Odoacre che toglie Romano Augusto è perché erano esasperati i soldati perché volevano una situazione in cui non ci fosse un imperatore ogni due anni o ogni anno perché era a detrimento anche della loro capacità di poter combattere o L'altro Mike, Mike Duncan, il podcaster di storia numero uno al mondo, il primo, il papà, il nonno di tutti i podcaster di storia. Orca, orca, mi si nascondono i commenti, non so perché, forse sono diventati troppi. Allora, il Michele, Gala Placidia, me l'ha sfunta Teodora, Girl Power. Allora, io questa è una cosa che ci tengo a dirla, Daniele. Più leggo la storia antica, più escono fuori donne. Donne forti, donne capaci, donne che contro tutto e tutti riescono ad influenzare la storia. Contro tutti e tutti perché il mondo non è un mondo di donne, è un mondo fatto dagli uomini. E questo mi fa dire che noi quello che vediamo è probabilmente la punta dell'iceberg. Noi vediamo perché gli scrittori sono tutti uomini, gli scrittori di storia, le fonti, e loro sono tendenzialmente misogini. Quindi, tendenzialmente parlano delle donne o per dispregiarle, o per dire che è colpa loro di ogni disgrazia, o le ignorano. Io non ho dubbi che noi vediamo solo una piccola punta dell'iceberg dell'importanza delle donne nella storia. Quindi quando mi si dice che le donne nella storia non ci sono, io sono del tutto contrario a questa cosa e non sono per niente d'accordo. E come abbiamo visto con tantissimi casi, nel senso, Elia Pulcheria è credo il personaggio più importante dell'intero quinto secolo. Donne e uomini. Sia per la sua importanza nella religione, sia per la sua importanza nell'impero. E sì, Mike, Teodolinda, Marozzi, Matiglia di Canossa, lo so che una tua... ci sei molto affezionato e sono d'accordo. Aureli, Firenze e Siracusa sono inevitabili per l'azione d'Italia? Sì, sono d'accordo, due città fondamentali. Marco Manero, ricordati che la tua seconda passione per l'economia è condivisa da qualcun altro, ma si faranno altri episodi dedicati all'economia. Appena avrò qualcosa di interessante di cui parlare, infilerò un nuovo episodio dedicato all'economia. Mi sono divertito molto, non so se si è notato. Domando un po' più in là, negli anni, quanta influenza ha avuta l'invasione maggiore nella cultura italiana? Non ho gli strumenti adesso per poter rispondere a questa domanda. Le invasioni nel nono secolo credo siano state più di tipo di razzie che di influenza culturale, però lo studierò. Non è un argomento su cui sono forte, ti dico la verità. David L'Apostata, ciao! Ciao David, non è mai tardi. Daniele, ti ringrazio, grazie a te. Volevo chiedersi, se non ci fosse stata l'invasione bizzartile, si sarebbe creata in Italia un'identità nazionale più forte. L'identità nazionale, la nazione, allora questa è una cosa però che vogliamo dirla, lo Stato nazionale è un'invenzione recentissima. Gli Stati, essendo generosi al 700, se uno vuole esagerare al 600, più realisticamente all'800, non esistono Stati nazionali. Anche la Francia non è uno Stato nazionale. La Francia è uno Stato governato da... che è di proprietà del re. Quindi è questo, non c'è un... la Francia come nazione. Certamente ci sarebbe stata, secondo me senza l'invasione dell'impero romano d'Oriente, ci sarebbe stata una possibilità di creare uno Stato forte, ma magari sarebbe scomparso con le invasioni successive, con gli altri periodi di crisi. Quindi non è detta mai la storia, non si può mai dire che è sicuramente così. Io sono convinto che si sia trattata... la guerra greco-goti è stata un enorme errore sia per l'impero sia per l'Italia, ma questo non vuol dire che le cose sarebbero andate sicuramente perfettamente. Sì, Martin, libri, ti consiglio Theoderic and the Roman Imperial Restoration, dove parlano molto bene della convivenza tra italiani e goti. Un'altra domanda, ma il grandioso incitto dei faraoni in la tarda antichità sotto l'impero romano d'Oriente come era? Era ancora la macchina... Oh, scusate, devo salutare anche Bri. Ciao Bri, da altra grandissima podcaster, andate ad ascoltarvi Pontifex di Bri e Fry, perché innanzitutto è super divertente e parla di tutte queste storie di papi. Oggi loro sono arrivate all'ottavo secolo, quindi sono un pochino più avanti, e devo dire che anch'io quando devo parlare di un papa mi vado ad ascoltare la loro puntata, perché di solito ci trovo sempre delle chicche fantastiche. E poi è molto divertente. E poi c'è tanta verve comunicativa, quindi è uno stile diverso, ma io apprezzo tantissimo. Ovviamente in inglese, però è un inglese approcciabile, quindi ci potete provare. Dicevi l'Egitto dei faraoni. L'Egitto è la macchina economica più importante dell'impero romano in tutta la sua storia. Quindi possiamo dire che l'impero romano d'Oriente smette di essere un impero veramente delle dimensioni di un impero romano classico quando perde l'Egitto. L'Egitto è, vi ho parlato relativamente all'Occidente dell'Africa come il motore economico dell'Occidente. L'Egitto è la stessa cosa per l'Oriente, ma moltiplicato per 5. L'Egitto ha un surplus economico spaventoso rispetto a tutte le altre province, perché è fertile, ha una produttività spaventosa. Per difenderlo non sono necessari grandi apparati difensivi, perché è sostanzialmente difeso dall'IMES in Siria, in Palestina. Quindi è veramente il motore economico dell'Oriente. Spero che ti risporto, Mirko. Grazie per tutti gli auguri, grazie, grazie, grazie. Il Nettere di Cerere, quindi questo è quando... Io c'ero nel primo numero, grande David. Birra belga preferita, Jonathan. Ah, che bella domanda, Jonathan, grazie. Direi Orval, una delle trapiste migliori. Questa no, questa è una bionda. Ah, e dunque... Ti perdoniamo per la birra, io brindo la vostra saluta con un buon vermuti di Torino. Dai, la prossima volta col vino. Lorenzo, grazie di tutto, veramente. Venezia era già presente nel... Damiano mi chiede. Ah sì, grazie, armi, acciaio e malattie. Sono un po' indietro, ma arrivo a tutti, ce la ci provo. Allora, armi, acciaio e malattie... Sì, scusa, Venezia era già presente nel 600. Sì, tendenzialmente Venezia, ma non a rialto. Venezia esisteva probabilmente... Esisteva già una popolazione nella laguna Veneta anche sotto l'impero. Non è vera la storia... Ci sono gli archeologi che hanno fatto delle recenti riscoperte, non è vera la storia che la laguna era spopolata durante l'impero romano, era, anzi, aveva un'alta densità di popolazione per essere una laguna. Probabilmente il momento di passaggio fondamentale è la migrazione di Longobardi, perché una parte della popolazione va a vivere nelle lagune effettivamente, ma la capitale del... Quindi le Venezie erano tutto il Triveneto. Questo Ducato si comprime, perché il resto diviene Longobardo, e rimane solo la parte costiera del Triveneto, da, più o meno dal Po, fino a quasi a Trieste. Questo è il Ducato Veneto, con un dux. E questo c'è già nel VI secolo. E evolve col tempo. La capitale del Ducato non è... Non sono le isole di Rialto, ma, diciamo, ci sono due capitali, Grado e la capitale religiosa, e, se non sbaglio, prima Altino, poi Eraclea, poi abbiamo Malamocco, e anche... Quindi si sposta la capitale, e a un certo punto, se non sbaglio, nel IX secolo, però non è una parte che è ancora studiato nel dettaglio, la capitale si sposta nelle isole centrali di Rialto. Saluti dall'Argentina anche, hola! Tra l'altro, mia cognata è argentina, di Tucuman. Tucuman. Ah, sì, entropia, sì, ogni tanto parlo di entropia, è vero, non l'ho mai specificato in bene dettaglio. L'entropia, cos'è l'entropia? Tutto tende all'entropia, no? Al caos completo. Ok, poi abbiamo... Dove è stato in Instagram? Sì, 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 noi ci sono anche su Instagram, Herman. Ok, vediamo un po'. Antonino Di Blasio. Quanta responsabilità dai alla Chiesa come causa della decadenza del periodo antardo antico? Ma della civiltà di tutto l'Occidente? Ma... Quasi nulla. Quasi nulla. È un fattore forse anzi ha anche aiutato l'impero romano a trovare una maggiore stabilità come la vediamo nel IV e nel V secolo l'impero romano d'Oriente trova una certa stabilità intorno anche alla religione poi certo ci sono le divisioni. Io non credo che sia stato un fattore di crisi. Questo non vuol dire che la Chiesa è perfetta è buona è stata una cosa buona è una cosa positiva spero che di aver mantenuto un atteggiamento il più possibile laico nel senso termine corretto del termine cioè indipendente cerco anche di insomma di non dare niente per scontato e quindi di vedere di vedere le cose nella realtà dei fatti secondo me non è un fattore particolarmente importante nella decadenza dell'impero romano o della crisi io credo che sia molto più importante se dovessi dire la prima cosa probabilmente sono i fattori naturali e le pestilenze fattori strategici geopolitici la scesa della Persia e la crescita economica dei Germani come come altra ragione la grande migrazione degli Unni ma la Chiesa non non credo sì Francesco dice sono le truppe degli Unni al seguito degli eserci bizantini sono le panze eh sì cioè quando quando è bellissimo vedere i vandali che arrivano un'unità di di Unni chi sono questi tutti morti eh sì sono sono terribili gli Unni l'esercito di Odoacre era costituito affederati erano un misto di vari barbari erano un misto di tantissime popolazioni di Germani varie ma non erano vere popolazioni erano veramente persone assoldate potevano essere anche singoli ed erano Germani perché come ho spiegato prima era quella la modalità più semplice di arruolamento ma non era non era un esercito nazionale e infatti Odoacre diventa re non come un re nazionale come un re dei goti ma come un re dell'esercito d'Italia chiunque essi siano Marco Cipriani